Avanti con Massimiliano Olivieri con l'ausilio del leader Antonio Vacca e sotto col mercato. Ieri il presidente del Foggia Nicola Canonico ha ricevuto nel suo quartier generale di Modugno lo staff tecnico per fare il punto della situazione e per tracciare le prime linee della campagna di rafforzamento invernale in cui il Foggia sarà obbligatoriamente chiamato a colmare quelle lacune emerse nel girone di andata in primis in una sfittica prima linea che necessita di urgenti correttivi concetti ripresi anche dal vice presidente Emanuele Canonico ieri ospite al pallone in poltrona qualche big sembra destinato a partire Capitan Garattoni infatti è finito nel mirino dell'Avellino il vice presidente Emanuele Canonico tuttavia smentisce qualsiasi trattativa al momento ma specifica che a Foggia resterà solo chi ha voglia di farlo. Secondo me oggi è il momento giusto perché noi abbiamo anche parlato con la squadra chi non vuole sudare la maglia io ho sempre detto che per indossare la maglia del Foggia e lo vivo da dirigente il Foggia ti deve entrare prima qui dentro quando tu diventi tifoso riesci a dare il 110 per cento chi non si vuole sudare la maglia chi non vuole mettere questo a disposizione dalla squadra della città che ci crede devi andare via quindi se Garattoni ha interesse vuole andare altruo perché lo facesse oggi è il momento giusto per farlo noi sicuramente non ci faremo trovare impreparati. Intanto il club rossonero ha ultimato i lavori del campo di Amendola che presto tornerà ad essere il quartier generale dei rossoneri per gli allenamenti settimanali. Oggi posso dire ufficialmente che abbiamo ultimato i lavori che il campo sarà pronto tra qualche giorno semplicemente perché adesso deve uscire il filo d'erba abbiamo fatto la semina abbiamo fatto a spese del calcio Foggia.